musica raga questo è il mio pranzo uno yogurt sono appena tornato all'università giù 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 su 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 bella ragazzi qui bene oggi siamo qui tornati con un nuovo video siamo qui su calls duty 2 attenzione 2 2 2 del lontano 2005 addirittura e nulla ho visto il video da velox ho visto che c'è gente ancora che ci gioca quindi crack potente e si va a giocare su con 2 ma che gusto è sto yogurt alla banana perchè non si capisce sembrava albicock finito allora io proverei direttamente join game allora player come potete vedere c'è più gente qui che su black ops 2 mv2 mv3 quindi team deathmatch io direi io proverei anche questa car 98 perchè non mi ha salvato l'impostation però ho smesso di registrare ora ha rincominciato raga che dire si inizia ve ve lo giuro guardalo lì dove era madonna dove ti sei messo zio è meglio di black ops 3 sta cosa mi potrebbero inculare male no dai ma che palle e la la ha un aimbot assurdo sto coso no non è vero sono io che sono sono io che sono fortissimo io preferisco veramente questo che black ops 3 dai fuori l'alca fuori l'alca devi togliere vaffanculo ho sentito no 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 la granata merda raga comunque è stra difficile allora join serve server player join serve ma è la stessa di prima eeeh però what the fuck com'era let's go dai non l'ho visto dove cazzo era e va bene era lì dentro 10 contro 9 questa mi piace già un po' di tutto ero tu cazzo che stai già sparando così cosa devono fare un cattolo alla bandiera si io sono Tedescan ecco io devo andare qua se mi spari ancora una volta ti ammazzo ma questa è la mappa tipo wasteland oh mio dio dove guarda dov'è raga questa è wasteland è questa guarda è lei oi bacco porca puttana oi baccona com'è aspetta 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 anche lui è lì per fare qualcuno corte corte togliti vaffanculo oh mio dio hop camping non è un crimine non è un crimine infatti vengo sotto casa chiunque ti abbia preso come ho fatto a prendere questa bandiera vaffanculo zorro come no co cosa come mi apri se vabbè poi lì ne ho visto uno che correva oh cazzo vai zio vai vai oh fuck oh fuck oh fuck 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 oh dai dai entra fai il macello fai oh cazzo no 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 la granata uh mio dio guarda dove sono tutti guarda come ha fatto a vedermi allora stand by allora bolt action music guard oh mio dio quanti cazzo siamo qua no raga cosa ho lisciato cosa c'era lì è una tripla allora no vaffanculo no 10 una kill oh god oh my god guapa no no c'è raga no oh mio dio guardalo mio dio ha fatto uno qui in tubo di granata come cazzo corre come cazzo corrono oh mio dio allora con calma bisogna fare con calma ma come fanno a correre guarda come corrono oh mio dio ecco come si fa devo schisciare f guarda come corre wii 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 allora merda fammi ricaricare fammi ricaricare questo me roppo il cazzo uno due cazzo mostro fa spaccare quando corre come fa a essere sopra lì facciamo le cose per bene aggiriamo no non che devi ricaricare adesso no tutto split raga tutto split la tripla doppia 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 oh mio dio cosa ho fatto lì oh mio dio raga faccio questo pezzo di video finale perché sicuramente voi avete visto magari in qualche scena che nella mia squadra c'erano i bot c'era scritto proprio bot però caldo t2 è talmente vecchio che i bot non sa neanche che cazzo siano nel senso quella è una lobby privata di persone non so tericamente tedesche erano era un server tedesco quelli con sito bot sono semplicemente delle persone che non volevano iscriversi al loro sito su internet perché perché quando ti iscrivi ti chiede mail solite robe però non puoi salire di classe nel senso quindi tutte le volte dovrai ripartire da zero ogni volta che riaccendi riaccede al c'è ogni volta che riaccedi al server dovrai ripartire da zero con le classi quindi non hai tipo delle delle armi sbloccate ecco e invece io l'ho fatto quindi ovviamente come vedrete magari nel schiacciando tab esce tutta la lista delle persone che ci sono come su qualunque gioco su pc e alcuni avevano il simbolino del grado del comunque del rank del personaggio altri no e infatti molti c'erano scritto bot perché praticamente non si sono iscritti al sito e quindi non possono salvare i dati e quindi esce bot come se fosse una persona comunque strana al server perché sicuramente moltissimi diranno ci sono i bot e quindi sono tutte feed fatte a minchia in realtà no perché comunque si vede nel gioco che ci sono quelli lì definiti bot che mi arano comunque il culo e quindi sti cazzi ovviamente eravamo in un server da 20 contro 20 mi è uscito un bambino quindi 20 contro 20 vuol dire che non capisci un cazzo vedi gente che corre destra e sinistra quindi becchi il primo che vedi nulla quindi concordo con il video se vi è piaciuto mi invito a lasciare un commento iscrivervi al canale e noi con questa super luce così e il maglioncino di natale ci becchiamo al prossimo video bella ciao Grazie a tutti